Simo, tra tutti gli ospiti maschi e donne che hai avuto in live Solita domanda Sei finito a letto con più di tre persone? Impazzito Allora, zio è semplice in realtà Cazzo ridi, ragazzo ridi Oh mio dio Non volevo rischiare a dire cinque Anche se non è più di dieci Però non volevo rischiare a dire cinque Perché magari mette caso che erano quattro E' la prima volta che risponde No, no Mi hanno abbonato su TikTok per l'ennesima volta Sì